Nel video di oggi vi sveleremo chi è realmente il padre del principe Harry, grazie ai risultati del test del DNA richiesto da Re Carlo III. Prima di continuare, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere le ultime news. Harry, noto per il suo spirito indipendente, ha lasciato la Royal Family per una nuova vita in California con Meghan, ma sente spesso nostalgia per la famiglia. Le tensioni con Re Carlo hanno sollevato dubbi sulla paternità di Harry, alimentati da lettere di Diana che suggerivano una relazione con la guardia del corpo James Hewitt. Il test del DNA ha confermato che Harry è figlio di Carlo e Diana. Nonostante ciò, Carlo ha richiesto una controprova per garantire l'integrità dei risultati. Harry ha discusso delle difficoltà con la famiglia reale nel suo libro, Spare. Le speculazioni sulla paternità hanno alimentato gossip sulla Royal Family, creando ulteriori tensioni. Harry e Meghan stanno cercando di costruire una nuova vita lontano dalla pressione mediatica. Cosa ne pensate dei risultati? Trasparenza totale o tentativo di evitare uno scandalo? Fatecelo sapere nei commenti. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi i prossimi video.